Io devo dire che dobbiamo essere particolarmente contenti di presentare dei risultati in crescita con fronte all'anno precedente, considerato da dove stiamo partiti. UbiBanca chiude il primo trimestre 2020 con un utile netto di 96,3 milioni di euro in crescita del 12,1% rispetto al 2019. Un trimestre ovviamente impattato da tutto quello che sappiamo e riuscire a consegnare proventi sostanzialmente in linea con l'anno precedente nonostante un mese di marzo in cui si è fermato tutto, costi in discesa nonostante l'assorbimento dell'impatto del contratto collettivo nazionale del lavoro e una qualità del credito che si conferma estremamente buona nonostante che noi si siano fatti degli accantonamenti ulteriori prudenziali sulle componenti di credito più debole, cioè quelli che chiamiamo gli allacchi to pay che tentiamo evidentemente ancora di riportare in vita e di riportare a performing ma che comunque abbiamo ritenuto di coprire ulteriormente in maniera specifica su quei settori più impattati dal Covid, faccio un esempio ovvio a tutti, il turismo, portare a casa un risultato complessivo così importante ed in crescita insisto sull'anno precedente nonostante qualche accantonamento in più è una dimostrazione notevole di capacità di gestire anche un momento così particolarmente difficile come quello che abbiamo attraversato. Quanto alla solidità patrimoniale il coefficiente CET1 è salito del 12,86% più 57 punti base da fine 2019. In un contesto in cui anche se volessimo metterle da parte, perché ovviamente noi cercheremo se la BCE ci darà la possibilità di farlo, di compensare comunque gli azionisti in autunno anche se volessimo detrarre i 26 basis point dei dividendi, avremmo comunque un CET1 superiore al 12,50. Abbiamo un Liquidity Coverage Ratio che è sopra i 180, abbiamo un Estable Funding Ratio che è sopra tutti i requisiti della vigilanza, abbiamo un MRL che è abbondantemente sopra i requisiti della vigilanza, abbiamo un Total Capital Ratio che dopo l'81 che per fortuna, e devo dire con una tempestività che si è rivelata particolarmente importante, l'81 che abbiamo emesso a gennaio ci porta il Total Capital Ratio a livelli molto elevati, tutto questo insieme di cose dice che UbiBanca in sintesi estrema è una banca che nonostante la crisi e nonostante una crisi nei suoi territori è ancora più forte di prima. Per l'emergenza pandemia dal primo aprile UbiBanca ha varato il piano Rilancio Italia. Siamo il 50% di tutti i crediti erogati a livello del sistema Italia fino a 25 mila Euro, una cifra enorme in termini di quota, considerata la nostra quota normale di mercato è attorno al 6%. Stiamo processando oltre 2 miliardi di crediti 662 per quelle aziende che hanno diritto alla garanzia fino a 800 mila Euro, ticket medio guarda caso è di 700 mila Euro, oltre 110 mila moratorie per circa 17 miliardi, se considerato che il numero delle moratorie nel Paese è attorno a 1 milione 100, stiamo dicendo che una moratoria su 10 e oltre è fatta da Ubi, di nuovo più che proporzionato alle quote di mercato normali, una banca che ha saputo reagire molto più velocemente degli altri. E di nuovo torna la capacità di gestione del credito insieme alla tecnologia, il 50% dei crediti fino a 25 mila Euro, siamo riusciti a farlo, questa quota sproporzionata, perché avevamo la tecnologia e abbiamo trovato una soluzione per interagire in maniera massiva con il medico credito centrale a una velocità che gli altri non hanno saputo avere.